In questo periodo di emergenza, dove muoversi con i mezzi pubblici sta diventando sempre più un problema, ho deciso di acquistare questo monopattino per muovermi in città e per sfruttare le tante piste ciclabili realizzate negli ultimi mesi. Mi sta piacendo molto questo modello, ormai lo sto usando da alcune settimane e lo trovo molto comodo e facile da usare. Arriva ad una velocità massima di 25 km orari, ma si possono anche impostare due livelli minori per limitare la velocità utile in alcune zone più trafficate o anche solo per quando si impara ad usarlo agli inizi. Mi ha stupito per la sua stabilità, si riesce a passare anche in zone dove l'asfalto non è perfetto, dove ci sono piccole buche o la strada è un po' sporca. Bisogna prestare un po' di attenzione a non perdere l'equilibrio, ma il monopattino mantiene bene la direzione senza sbandamenti. Se si mantiene alla stessa velocità massima per 5 secondi, si può poi rilasciare l'acceleratore e il monopattino manterrà automaticamente questa velocità fino a quando non useremo di nuovo l'acceleratore per sbloccarla. Quando si esce da questa modalità bisogna però prestare attenzione al freno motore perché ho notato che in discesa a volte entra un po' troppo bruscamente e questo può dare dei problemi di controllo. Il monopattino è realizzato bene con buoni materiali, è robusto e solido. Ha una lunghezza di 1 metro e 8 centimetri mentre in altezza ha il manubrio regolabile. Si richiude molto facilmente per poter essere trasportato a mano e riposto anche in poco spazio. È già piuttosto pesante visto che pesa circa 12 chili e gran parte di questo è dovuto alla batteria. Ha una buona capacità che permette al monopattino di percorrere un po' meno di 20 chilometri, dipende molto dalla velocità che si tiene e se si va in pianura o in salita. Ha una buona potenza comunque che gli permette di andare senza problemi appunto su alcune salite e anche su tratti ripidi. L'ho testato su una rampa fino al 15% ed è riuscito a salire anche se a velocità molto limitata. Monta due ruote piene quindi non si ha alcuna sorta di ammortizzamento ma ha il vantaggio di non poter bucare. Sul retro è presente un led che si accende quando si frena mentre sul manubrio è posizionata una luce che si può accendere tenendo premuto il tasto dell'accensione sul manubrio. Comoda la presenza di un piccolo cavalletto laterale per poterlo lasciare in piedi senza doverlo appoggiare a un muro o qualcosa. Per concluderlo ho trovato un buon mezzo per muoversi in città e sfruttare così le tante piste ciclabili. Ha una buona velocità, è stabile e facile da guidare. Il prezzo è in linea con gli altri monopattini sul mercato. Se la recensione vi è piaciuta e vi è stata utile vi sarei grato se metteste un voto con il tasto qui sotto. Grazie e alla prossima recensione.